salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video oggi andremo a parlare dell'arrocco arroccare prima della decima mossa è una delle regole fondamentali che si imparano già quando si è dei principianti oggi vediamo come arroccare efficacemente a scacchi come fare a punire l'avversario se questo dovesse decidere di non arroccare di mantenere il re al centro e inoltre vediamo delle situazioni in cui è sbagliato arroccare chi arrocca velocemente spesso ha anche un'elevata percentuale di vittorie vediamo subito due esempi su come punire l'avversario se decidesse di mantenere il re al centro senza arroccare velocemente ci sono infatti due modi di agire uno è quello di cercare di attaccare il re dell'avversario e il secondo è quello di cercare di aprire il centro partiamo con il primo esempio dopo e4 e5 cavallo c3 cavallo c6 alfiere c4 alfiere c5 tutte mosse buone di sviluppo cavallo f3 cavallo f6 d3 d6 e arrocco qui il nero dovrebbe arroccare e la posizione sarebbe completamente pari ma vediamo cosa succederebbe se il nero non decidesse di arroccare mettiamo che il nero giochi a6 noi possiamo continuare benissimo con alfiere 3 sviluppando un altro pezzo dopo alfiere per e3 pedone per e3 e mettiamo ancora che il nero decida di rimandare l'arrocco e di giocare ad esempio alfiere d7 ok a questo punto la prima strategia è quella di andare ad attaccare il re e qui lo possiamo fare con cavallo g5 mettendo pressione su f7 e se ora il nero decidesse di arroccare è già troppo tardi infatti abbiamo la possibilità di punire il nostro avversario giocando cavallo d5 dopo cavallo d5 cavallo per d5 donna h5 minacciamo matto in h7 il nero è costretto a giocare h6 ma qui arriva cavallo per f7 e dopo ad esempio donna e7 alfiere per d5 minacciando ulteriormente il re alfiere 6 cavallo per h6 g per h6 e donna g6 scacco dopo donna g7 donna per e6 con grosso vantaggio per il bianco quindi la prima strategia per punire il vostro avversario quando non arrocca è quella di attaccare il re questa ne era una dimostrazione vediamo ora il secondo modo per ottenere vantaggio quando l'avversario non arrocca che è quello di aprire il centro quindi giocare al centro dato che il re è vulnerabile e4 d5 difesa scandinava pedone per d5 donna per d5 d4 cavallo c6 cavallo f3 cavallo f6 tutte mosse normale di sviluppo alfiere e2 alfiere f5 arrocco e mettiamo che qui il nero decida di non arroccare e di continuare con e6 c4 donna d7 cavallo c3 e alfiere e7 in questa posizione il bianco ha già ottenuto un ottimo vantaggio poiché è riuscito a mettere il re al sicuro e riesce a sfruttare la lebolezza del re nero che si trova ancora al centro non so cosa giochereste in questa posizione ma l'idea migliore è quella di aprire il centro e di attaccare il re vediamo come dopo ad esempio d5 andiamo a minacciare il cavallo e il pedone in e6 pedone per d5 pedone per d5 minacciando il cavallo cavallo b4 poiché questo cavallo non aveva molte case a disposizione cavallo e5 attaccando la donna e dopo ad esempio donna d6 qui già possiamo sfruttare la vulnerabilità del re giocando alfiere b5 scacco il nero può rispondere in qualsiasi modo non importa il bianco ha un grosso vantaggio vediamo ad esempio c6 pedone per c6 donna per d1 pedone per b7 scacco andando ancora a sfruttare la debolezza del re re f8 pedone per torre promozione donna d8 donna per a7 e di nuovo qui grosso vantaggio per il bianco ritornando a questa posizione dopo alfiere b5 mettiamo che il nero qui decida di giocare alfiere d7 ma anche in questo caso seguirebbe cavallo c4 attaccando la donna donna c5 alfiere e3 a questo punto la donna è intrappolata quindi non c'è niente da fare per il nero vi ho dimostrato con questi due esempi quanto è rischioso mantenere il re al centro e non arroccare subito nelle prime mosse andiamo a vedere ora delle situazioni in cui è sbagliato arroccare vediamo subito due partite e4 e5 cavallo f3 cavallo c6 alfiere c4 alfiere c5 partita italiana d3 d6 g3 il bianco decide di giocare g3 e va a indebolire le case chiare ora vedremo che è molto pericoloso arroccare corto in questa posizione dopo cavallo f6 il bianco decide di arroccare e quindi di mantenere appunto le sue debolezze sulle case chiare segue arrocco dalla parte del nero e dopo cavallo c3 alfiere g4 il nero sfrutta subito la debolezza del cavallo in f3 segue alfiere e3 sviluppando un pezzo cavallo d4 aumentando la pressione sul cavallo in f3 alfiere per d4 forzata pedone per d4 attaccando il cavallo in c3 e dopo cavallo a4 cavallo d7 con l'idea di giocare cavallo e5 cavallo per f3 piano inarrestabile grosso vantaggio per il nero dopo cavallo per c5 ad esempio d per c5 il nero sta per giocare cavallo e5 cavallo per f3 e la partita qui è già da abbandono quindi come vedete è pericoloso arroccare quando si mette il re al rischio vediamo un secondo esempio dopo e4 e5 cavallo f3 cavallo c6 alfiere b5 apertura spagnola d6 d3 cavallo f6 c3 alfiere g4 e qui il bianco decide di giocare donna b3 lasciando in difeso il cavallo in f3 il nero ne approfitta per giocare alfiere per f3 dopo g per f3 come vedete il bianco ora si ritrova con una struttura pedonale molto debole sul lato di re quindi è molto pericoloso di nuovo arroccare corto vediamo come è andata la partita dopo alfiere 7 cavallo d2 donna d7 il nero gioca in maniera molto intelligente mantiene la possibilità di arroccare lungo oppure di arroccare corto il bianco decide di arroccare corto e questo è un gravissimo errore vediamo come sfrutta il nero questa situazione dopo cavallo h5 cavallo c4 da parte del bianco arrocco da parte del nero cavallo e3 per cercare di tornare in difesa donna h3 andando ad attaccare la casa g2 e il pedone in f3 donna d1 per difendere f3 cavallo f4 un'altra buona mossa per mettere pressione a re 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 h1 alfiere h4 come vedete il nero riesce ad attaccare comodamente l'arrocco del bianco la posizione per il bianco qui è disastrosa la partita continua con alfiere a4 arriva f5 e dopo alfiere b3 scacco re h8 alfiere d2 arriva torre f6 con l'idea di giocare torre h6 e di andare a dare scacco matto in h2 segue pedone per f5 torre h6 torre g1 donna per h2 sacrificio di donna re per h2 e alfiere per h2 scacco matto bellissima partita ma qui appunto il bianco arroccato nel momento sbagliato e nel modo sbagliato ecco che quindi per arroccare efficacemente dobbiamo tener conto delle nostre debolezze posizionali andiamo ora a dimostrare la regola che afferma che bisogna arroccare entro la decima mossa e per farlo prendiamo le aperture più giocate in assoluto e le più forti in assoluto iniziamo con 1 e 4 dopo e 5 cavallo f3 cavallo c6 alfiere c4 cavallo f6 d3 alfiere c5 qui in questa posizione siamo alla quinta mossa e entrambi i giocatori possono arroccare anzi è una buona mossa arroccare in questa posizione infatti di solito quando i tre pedoni dell'arrocco non sono stati mossi o spinti l'arrocco non ha debolezze e in più se vi è anche un pezzo a difendere l'arrocco tanto meglio non si rischia in nessun caso poi faremo degli esempi questa era l'apertura italiana gioco piano vediamo invece ancora dopo 1 e 4 e 5 cavallo f3 cavallo c6 vediamo in questo caso la mossa alfiere b5 appunto l'apertura spagnola dopo a6 alfiere a4 cavallo f6 e in questa posizione già il bianco può arroccare non preoccupandosi del pedone siamo alla quinta mossa il nero qui nella variante migliore decide di non catturare il pedone di giocare alfiere 7 per arroccare velocemente dopo torre 1 b5 alfiere b3 d6 c3 e arrocco anche qui siamo all'ottava mossa ed entrambi i giocatori hanno arroccato questo avviene in qualsiasi tipo di apertura vediamo anche con d4 dopo ad esempio cavallo f6 che è la mossa più giocata vediamo e6 la nimzo indiana dopo cavallo c3 alfiere b4 e3 arrocco siamo alla quarta mossa il nero ha già arroccato alfiere d3 andiamo a seguire la variante più giocata in assoluto della nimzo indiana d5 cavallo f3 c5 arrocco dopo sette mosse entrambi i giocatori hanno arroccato quindi non bisogna mai avere paura di arroccare nelle prime mosse della partita anzi ciò spesso e volentieri ci porta alla vittoria vediamo di nuovo dopo d4 cavallo f6 c4 g6 cavallo c3 d5 quindi vediamo la grunfeld anche questa una delle aperture più forti in assoluto contro d4 c per d5 cavallo per d5 e4 cavallo per c3 b per c3 alfiere g7 alfiere c4 stiamo anche qui seguendo la linea più giocata in assoluto nella difesa grunfeld arriva c5 cavallo e2 cavallo c6 alfiere 3 arrocco e arrocco siamo esattamente alla decima mossa e entrambi i giocatori hanno arroccato in questo caso il nero ha deciso di fianchettare l'alfiere così l'arrocco è ancora più protetto ritornando a 1 e 4 questo funziona veramente per qualsiasi per qualsiasi apertura possiamo anche vedere la siciliana ad esempio dove il gioco spesso e volentieri è squilibrato ad esempio vediamo la variante più giocata in assoluto della siciliana dopo cavallo f3 d6 d4 pedone per d4 cavallo per d4 cavallo f6 cavallo c3 a6 la neidorf siciliana neidorf alfiere 3 e5 cavallo b3 alfiere 6 f3 alfiere 7 donna d2 arrocco e arrocco siamo alla decima mossa e di nuovo anche qui entrambi i giocatori hanno arrocco in quella che è probabilmente l'apertura più difficile di tutte da giocare la siciliana neidorf ora vi dimostro con un altro esempio che arroccare va sempre bene dopo ad esempio e4 mettiamo che il nero giochi d6 noi proseguiamo con cavallo c3 e il nero qui decida di giocare h6 per cercare di attaccare il lato di re noi rispondiamo con alfiere c4 g5 e qui la domanda è va bene arroccare oppure no ma certo che va bene dopo arrocco siamo alla quinta mossa il nero certo può cercare di attaccare con g4 dopo cavallo e1 h5 d4 possiamo cercare di giocare al centro perché il re del nero è vulnerabile quindi cerchiamo subito di aprire il centro seguendo il primo principio che abbiamo dimostrato e dopo ad esempio cavallo c6 pedone per e5 pedone per e5 cavallo d3 non c'è neanche bisogno di cambiare le donne in questa posizione dopo ad esempio h4 arriva alfiere e3 e dopo h3 possiamo semplicemente giocare g3 a questo punto abbiamo neutralizzato l'attacco del nero abbiamo sviluppato tutti i nostri pezzi leggeri e vediamo che anche il motore è d'accordo con noi e abbiamo vantaggio ok siamo arrivati alla fine di questo video ricordatevi che è molto importante arroccare velocemente negli scacchi grazie a tutti per la visione like a questo video se vi è piaciuto ricordatevi di iscrivervi al canale ciao a tutti e alla prossima